Benvenuti a una nuova puntata del punto. Per parlare con un gradito ospite, un amico storico di teleambiente, il presidente dell'associazione Centro Consumo Italia, Rosario Trefiletti. Rosario Trefiletti non ha bisogno di presentazioni, lo vedete su tutte le divisioni nazionali, pubbliche e private, perché naturalmente vogliono una voce che sia chiara, netta e precisa, che non sia la voce del padrone. E poi Stefano manda l'immagine, caro presidente, che ti vede assiso ai tavoli di queste grandi televisioni. PNRR, MES e Via della Seta, COP28, sarà la bella immagine che viene con gli arabi dalla COP28, più petrolio e più nucleare. Poi ci dovranno dire i suoi amici del nucleare dove metteranno le scorie nucleari, perché tutti parlano di costruirle, ma intanto l'uranio ce l'ha Putin. E seconda cosa, poi dove metteranno tutte le scorie? In Italia ancora dobbiamo smaltire quelle del referendum di 40 anni fa. Pensioni, pensioni, sanità e scuola, carrello della spesa, diritto di sciopero, salario minimo, conti correnti che salgono e poi l'intelligenza artificiale. Ma partiamo da questi tre temi che coprono le notizie dei quotidiani. PNRR, il governo è in crisi, come in crisi col MES, quella brutta figura che ha fatto la tua presidente Meloni, perché il presidente Conte sa leggere, sa scrivere, poi è la sua professione. E la Via della Seta mi è sembrata, e poi mi taccio presidente, come quella dichiarazione badogliana. Dichiariamo pace a tutti, ma guerra a tutti, perché nel giorno dell'incontro la presidente dice noi non ratifichiamo la Via della Seta, ma ampliamo gli accordi bilaterali. Presidente. Sì, innanzitutto grazie della presentazione e io grazie a voi dell'invito, perché oltre a essere un amico di teleambiente, beh, insomma, storicamente devo ammettere che le prime mie apparizioni in video sono state proprio grazie alla vostra disponibilità. E quindi sono io che sono grato a voi. Partiamo subito dal PNRR. A parte il fatto che dovrei fare una, diciamo così, una precisazione, la situazione nel nostro paese è veramente molto grave. Abbiamo proprio terminato l'analisi della situazione socio-economica dei cittadini e poi se vogliamo la riprendiamo, beh, francamente tra l'abbattimento del potere d'acquisto, non solo dei lavoratori, ma anche delle pensioni, beh, fa dire che il nostro paese non è avviato bene come dovrebbe essere avviato. Tant'è vero che si vedono, i consumi sono al palo, anzi stanno diminuendo, anche in qualità, guardate bene, non solamente in qualità, ma anche in qualità. Detto ciò, il PNRR, che dovrebbe essere, diciamo così, lo strumento fondamentale in una fase come questa, beh, insomma, quando si pensa che solamente circa un 10% è stato speso, mentre invece bisognerebbe accelerare gli investimenti, bisognerebbe mettere in campo tutto quanto è possibile per poter rimodernare, riammodernare, anzi, il nostro paese per fare una transizione energetica che sia all'altezza dei tempi, poi ne parleremo quando diremo alcune questioni sul COP, la riunione che è stata fatta in Arabia, dove francamente c'è ancora molta delusione, ma comunque ne parleremo. Allora, PNR, abbiamo già detto, insomma, siamo di una lentezza esasperante, mentre invece bisognerebbe avere la velocità della lepre, certo, senza fare errori, senza fare sbagli, ma comunque investire. Anche perché sotto l'altra questione, che è la questione che tutti oggi, meno male che se ne parla, la casa, la scuola, la sanità, non c'è uno straccio di investimento, sono tutti sotto la soglia, quelle poche cose che si danno, sono tutti sotto la soglia del tasso di inflazione e quindi in buona sostanza c'è una riduzione degli investimenti in questi settori che sono fondamentali per i cittadini. La stessa sanità, si vuole andare verso una sanità che già da anni sta andando in quella direzione, per una sanità sempre più privata, una sanità in cui i cittadini devono avere turismo sanitario per andarsi a curare dal sud al nord o dall'est all'ovest del nostro paese. Insomma, francamente c'è da questo punto di vista una situazione che grida vendetta, che insomma grida bisogna prendere in mano questa situazione e denunciarla in maniera molto molto determinata. Insomma, il taglio dei finanziamenti a questi settori molto importanti, che ne va dello sviluppo non solo della sicurezza e della sanità del singolo cittadino, ma anche dello sviluppo del nostro paese. Ecco, siamo arretrati in tutti i sensi, per non parlare, come dicevo prima, la questione della realtà socio-economica del nostro paese. Chiudo su questa prima tranche di considerazioni. Beh, quello che è stato fatto, la discussione che è stata fatta in Arabia, Dubai, in buona sostanza, è quella per cui, meno male che è stata, da quanto mi arriva all'orecchio, meno male che è stata modificata parzialmente, ma la modifica parziale, ma grave, per cui si parla finalmente di superamento dei prodotti di derivazione del petrolio, ma si arriva al 2050, si dice, beh, meno male che c'è almeno questa cosa, ma al 2050. E poi bisogna vedere, viste tutte le contrapposizioni, se poi si cominceranno veramente ad attuare tutte queste decisioni. In più si parla di nuovo, qui io sorrido per non piangere, si parla di nuovo di nucleare. Qui ci si dimentica che il nostro paese, al di là delle considerazioni che l'uranio comunque costa un botto, che l'uranio è in mano a pochi paesi, pochissimi, quindi le alternative di approvvigionamento sarebbero messe anche in discussione, ma c'è una cosa in più, anzi ce ne sono due cose in più. La prima è che sull'uranio e sul nucleare addirittura alcuni paesi hanno deciso di chiudere le centrali nucleari, la Germania è in testa. Ma non dico solo questo, noi abbiamo avuto anche un momento importante, un momento referendario, in cui i cittadini si sono espressi, ma come si va a discutere di nucleare, oltre alle questioni delle scorie, dove mettere le centrali o che altro, ma come si va a parlare in un paese in cui, adesso se ricordo bene, il 96-97% della popolazione italiana aveva detto no al nucleare. E allora, ecco, questa prima considerazione su alcuni settori mi porta a dire non ci siamo. C'è ancora inerzia, dilettantismo, pochezza di intervento e anzi negatività in molti interventi. Presidente Rosario Trefiletti, naturalmente noi affronteremo tutti i temi. Io, visto che c'è questa questione della stampa di regime che ogni giorno ci porta più occupazione, meno occupazione, l'inflazione al minimo, i lavoratori ci sono. Ecco, i tavoli sono tanti della crisi e attualmente c'è anche una grande azienda che produce l'intimo, la perla, che mette in liquidazione l'agenda e fa in cassa integrazione dei lavoratori. Ecco, come mai c'è tutta questa confusione? Dice, le persone non vogliono lavorare, i giovani vogliono stare sul divano, sul sofà, in salotto, ma poi c'è la crisi reale, le aziende chiudono. Ma certo, è una sciocchezza che poi i giovani non vogliono lavorare, io manderei al mittente questa battuta del tutto infelice e indegna. Ma come? I nostri giovani lo sanno tutti a partire dall'Istato, comunque dovrebbero sapere. Noi non solo abbiamo una denatalità nel nostro paese, ma ogni anno circa centomila giovani si alzano dal divano, prendono i trenini quando non prendono l'aereo e vanno a lavorare a Los Angeles, vanno a lavorare a New York, vanno a lavorare a Londra, vanno a lavorare a Melbourne, in Australia, Sydney e Melbourne, vanno a lavorare a Berlino, a Londra, a Parigi, a Madrid. Centomila giovani vanno, alzandosi dal divano, a fare anche i camerieri e gli sguatteri nei ristoranti e negli alberdi, oltre alla considerazione che dentro questi centomila che fuggono all'estero, ventimila sono laureati, specializzati, eccetera, eccetera. Ma perché insistono a dire bestialità del genere? Perché se ci fosse la possibilità di esplicare la propria professione nel nostro paese, se la farebbero in Italia, nel nostro paese, vicino ai loro cari, il fatto è che offrono, quando c'è questa offerta, perché a volte non c'è neanche questa offerta, offrono lavoro nero, bassi salari, trattamento, non dico da padrone delle feriere, ma quasi, eccetera, eccetera. Vadano a studiare, siamo circondati, francamente, o da bugie o da persone che francamente non studiano, sono nell'ignoranza più crassa. E poi, per giustificare tutte le cose che fanno, danno e criminalizzano i nostri giovani di essere adagiati sul sofà e di non voler lavorare. È indecente. Presidente Rosario Trefiletti, rimaniamo sul tema del lavoro. Toccheremo poi diritto di sciopero e salario minimo. Ricordo sempre una battuta del suo amico sindaco di Roma, Giubilo, che disse quest'anno il Natale ci ha colto di sorpresa. Un po' come accade in Italia con l'Ezzo e un po' come sta accadendo con il Giubileo. Ma soprattutto come sta accadendo con l'intelligenza artificiale. Ci sono una serie di aziende che senza bisogno di nessuna spinta stanno innovando. Pensiamo Luxottica, Essilor. Pensiamo lo stesso brand della Ferrero, la Brembo. Ma che sta accadendo? La Ferrari, per esempio, è caduta in basso. L'intelligenza artificiale modificherà le strutture sociali e noi qui però stiamo ancora parlando a vuoto. Che cosa fare con le scuole che vengano abbandonate? Con le scuole che perdono la loro funzione principale? Prego, Presidente. Si collega a quanto dicevo prima. ma non si fanno investimenti soprattutto nell'innovazione tecnologica e diciamo così in generale anche dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo sempre detto che non bisogna avere paura degli investimenti nell'innovazione, come il problema del lavoro che ha perché ormai la strada è tracciata. Si va nella direzione dell'innovazione. Poi dirò contrastare l'innovazione cosa significa per il Paese. Il problema vero è che questi investimenti siano fatti ma siano fatti in maniera corretta, ci siano verifiche e controlli perché sull'intelligenza artificiale ci vuole maggiore verifica e maggiore controllo pena altrimenti di un utilizzo sbagliato di questa innovazione molto importante. Ma bisogna andare in quella direzione. Ecco, contrastare l'innovazione mi va a ricordare una polemica che ho aperto ultimamente soprattutto con chi accusa l'Europa che ci costringe a fare l'innovazione per quanto riguarda l'auto elettrica. Ma santa pazienza. Io vorrei ricordare non avendo fatto tutto ciò per quanto riguarda gli apparecchi televisivi che sono passati dal, ricorderete, dal cinescopio allo schermo piatto, allo schermo. Adesso noi non abbiamo più aziende in Italia che producono apparecchi televisivi. Si ricorda, presidente, si ricorda il famoso Mivar. Come no? Mivar, Seleco, ma come no? Io me le ricordo perché ho ancora una buona memoria pur essendo un po' anzianotto e me le ricordo. Adesso invece abbiamo solo il Samsung, cioè abbiamo i paesi dell'est asiatico che hanno fatto non il pieno, hanno il monopolio oramai della costruzione di questi apparecchi. Perché non abbiamo innovato noi? Allora, con la macchina elettrica stiamo facendo, visto che ci sono ormai non dei profeti, sono degli antiprofeti che dicono ah qui l'Europa ci costringe, ci costano tanto le macchine elettriche, ma sì, certo che costano anche tanto dato che non si fa, non c'è una domanda di massa, non si fanno gli investimenti, è così che si abbattono poi i costi delle autovetture. Ma questi nuovi, chiamiamoli profeti, ma profeti non sono, anzi sono l'incontrario, ecco, fanno di tutto perché noi non andiamo in quella direzione, sapete, andremo a finire come siamo finiti per i televisori. Così le automobili, l'automotiva che era vanto nel nostro paese dalla Ferrari alla Panda, ebbene, noi andremo a finire come i televisori, li faranno gli altri, noi li compreremo e saremo tutti felici e contenti di non averla data vinta alla cattiva Europa, all'Europa matrigna che ci obbliga a prendere le macchine elettriche. Francamente, caro direttore, io, a volte mi viene da dire non ne posso più, ma tanto non lo dico e basta perché io continuerò le mie battaglie. ricordiamo ricordiamo che il rapporto Svimez spiega che il 16% delle famiglie operaie è in stato di povertà e che gli indigenti al sud sono circa 200 mila, 250 mila in più, ma per il presidente Meloni l'economia va bene. E poi c'è il tema delle pensioni, non è vero che sono in rosso, le pensioni finanziano lo Stato. Chiariamo che chi ha la la esatto. Prego. Allora, innanzitutto le cose vanno veramente male perché il potere d'acquisto delle famiglie si è inabissato. I salari sono al palo, abbiamo una riduzione nel 22 del 7%, guarda caso anche nel 2023 un 7% in meno per quanto riguarda i salari. Sulle pensioni non ne parliamo, hanno tagliato la perequazione l'anno scorso, probabilmente faranno la stessa cosa quest'anno, ma tosta che vogliono risparmiare sulle pensioni di 4 milioni di pensionati 11 miliardi nel 23 e nel 24. Allora, francamente le cose sono messe male per i redditi fissi, tant'è vero che i consumi sono al palo, qualche famiglia che ha la fortuna di avere dei piccoli risparmi nei conti correnti, cosa sta facendo? Li sta portando fuori dai conti correnti per poter vivere decentemente, 50 miliardi di euro sono stati portati fuori dai conti correnti e tolti dal risparmio degli italiani per poter continuare appunto a vivere una vita decente. queste sono le questioni quindi taglio delle pensioni i lavoratori che francamente hanno un salario sempre più basso il potere d'acquisto delle famiglie che scende e tutto va bene madama la marchesa ma chi se ne inventa queste robe qua? Andate in giro vadano in giro che ha le responsabilità istituzionali a parlare con i cittadini che gli risponderanno a tono. io mi auguro ovviamente senza violenza ma a tono gli risponderanno. Infatti il canone della carta di debito è cresciuto del 19% i cittadini proprio così aumentano anche i costi degli strumenti per appunto poter fare transazioni economiche e via dicendo cioè non solo aumenta tutto e anche qui finalmente voglio dire una cosa con estrema chiarezza quando io sento ministri o non sono ministri che dicono ah l'inflazione i prezzi stanno diminuendo eccetera sono delle bufale non è così è l'incontrario perché nessuno dice loro ma io lo voglio dire ma lo devono dire tutti che nel 22 l'8% l'8 e 3 per la verità 8 3 8 e 2 più il 6% quest'anno le cose le percentuali si sommano cioè aumentano già i prezzi erano elevatissimi nel 22 c'è stata una un picco tremendo dei prezzi quest'anno è il rallentamento riguarda l'avanzamento dell'inflazione non che scendono i prezzi ma addirittura aumentano ancora del circa 6% santa pazienza arriviamo alla somma del 14% non è che l'inflazione scende ma qualcuno la quinta elementare l'ha fatto almeno voglio dire la terza elementare qualcosa del genere guardate sia io e posso citare una mia carissima amica che era la responsabile della comunicazione dell'istat che anche lei va in giro a dire queste cose e ma rimanendo scioccata dalla pochezza dalla disinformazione dall'ignoranza totale quindi per cortesia ministri politici sottosegretari non andate in giro a dire adesso sta diminuendo l'inflazione no sta diminuendo l'aumento del tasso di inflazione sta rallentando ma non che diminuiscono prezzi e tariffe ecco l'ho detta con estrema spero almeno con chiarezza abbiamo un minuto poi diamo la pausa pubblicitaria la pubblicità progresso di teleambiente che difende l'ambiente e i consumatori ricordiamo che nei supermercati anche lo scaffale della carta igienica è vuoto per far capire quanto costa ormai tutto il prodotto mentre prima vedevate gli scaffali pieni adesso sono vuoti quello dell'olio è un segnale fortissimo l'olio extravergine di oliva buono non buono al 70 90 al 100% hanno poche bottiglie ormai molti supermercati e tanti hanno una o due marche ecco presidente chiudiamo questa riflessione e poi inviti però lei che ha la possibilità di parlare urbi e torbi nelle reti nazionali veramente queste persone non vanno no l'olio chiudo perché avete giustamente la pubblicità progresso ma chiudo con questa con questa notizia che è grave l'ha anticipata lei direttore insomma l'olio d'oliva ormai è ben al di là di 10 euro sto parlando dell'olio d'oliva quello quello vero non quelle strane miscele ogni tanto ci troviamo in qualche supermercato dove mettono l'olio denaturato che proviene da paesi in cui senza fare il nome di quei paesi che non avendo la possibilità di fare subito l'estrazione dell'olio lo lasciano per settimane per mesi e questo acquisisce particolarità molto negative poi viene denaturato viene deodorizzato più per la verità il termine è la deodorat deode vabbè ci siamo capiti togliere quel cattivo odore e poi mescolato con un altro olio d'oliva insomma questo è purtroppo c'è anche questa questione che il made in Italy l'olio d'oliva è la una delle scelte fondamentali del made in Italy costerà e costerà sempre più caro alle famiglie italiane ricordiamo che un olio di oliva taggiasca costa 20 euro al litro se lo trovate e se lo trovate veramente pubblicità progresso di teleambiente rimanete con noi a vittro a vittro a vittro a vittro a i Grazie a tutti. Eccoci nuovamente in studio con il dottor Rosario Trefiletti, presidente dell'Associazione Centro Consumatori Italia. Vi abbiamo lasciato con la notizia dell'olio d'oliva, se volete quello taggiasca, oppure l'olio d'oliva speciale delle Puglie, non lo trovate a meno di 20 euro al litro, sperando sempre che sia efficiente e buono, come dice il codice a barre. Presidente Rosario Trefiletti, qui entriamo poi nel salario minimo, nel diritto di sciopero e questi tavoli della crisi che non accennano a chiudersi né a diminuire, mentre la stampa di regime dice che naturalmente invece l'occupazione c'è. Ma a quali prezzi, a quali costi e a quale tipo di occupazione? Perché chi gira per la capitale, ma come dice l'amico Veltroni del presidente Trefiletti, anche nelle altre città, cosa vediamo? Vediamo che ci sono pizzerie, atalio, caffè, venditori di frutta che ormai in appalto tutto a Bangladesh, per usare un termine rispettoso, i famosi negozi cinesi che hanno ormai eliminato tutte le mercerie, ma distrutturale. Cosa c'è nel nostro paese? Ritorniamo al discorso della perdita di competitività. Perché è inutile che tutti si lamentano della Cina quando lei sa meglio di me e anni fa tutte le aziende hanno delocalizzato in Cina perché il prodotto in Italia costava 10, in Cina glielo facevano a 3 e lo vendevano a 12, facendo cassa, chiudendo le aziende e tenendo a spasso i lavoratori. Allora, un'azienda produttrice di scarpe, della quale non faccio nome, disse ma se noi non produciamo in Italia e non diamo da lavoro alle nostre maestranze, cosa succederà del paese? Adesso se ne accorgono tutti. Sì, allora cominciamo anche a chiarire la questione dell'occupazione. Guardate che per fare un confronto molto serio sull'occupazione, a parte il fatto che bisognerebbe vedere che tipi di lavoro ci sono dati in più nel paese, ci sono appunto lavori precari e via dicendo, cosa che diceva lei direttore, assolutamente. C'è raggiunta, matematicamente, andate a vedere il numero delle ore di lavoro lavorate, non mi sembra che ci siano le percentuali che vengono denunciate come aumento dell'occupazione, no, tutt'altro. Questo è il primo chiarimento. Seconda questione, io ho trovato allucinante il dibattito sul salario minimo, addirittura con delle giustificazioni per cui se mettiamo il salario minimo a 9 euro, 10 euro, c'è poi il pericolo che scendano i salari dei lavoratori. Questi non sanno neanche che è proibito, non si può fare, non può scendere un salario reale che è già dato ed è in utilizzo per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale a cui viene applicato il lavoratore. Non esiste, non esiste questa cosa qua. Il salario minimo che oltretutto, apro una parentesi, la chiudo subito, c'erano in tutta Europa, l'Europa sta diventando veramente sovversiva, troppo di sinistra perché anche lì tutti i paesi europei con il salario minimo, ma chiudo la parentesi sull'Europa. Il salario minimo serve a tagliare le unghie a chi vuole che i lavoratori lavorino o in salario nero o a 4 euro in modo che muoiano di fame, con contratti allucinanti, addirittura con contratti pirata, con contratti ad hoc che vengono utilizzati e meno male che almeno vengano definiti contratti pirata. Ecco, se qualcuno vuole che il nostro paese si sviluppi con queste, chiamiamo le regole, mentre invece sono delle irregolarità, beh, continui a dire le sciocchezze che dice. Il salario minimo serve a tagliare le unghie a tutto ciò che è molto poco innovativo, è molto poco, diciamo così, di supporto allo sviluppo serio di un paese che deve essere tra i paesi fondamentali a livello internazionale, sulla qualità delle nostre produzioni, sulla specificità delle nostre produzioni e via dicendo. Se invece, vado al termine della mia considerazione, si vuole fare la competizione internazionale sui bassi salari e su, per esempio, la non immissione del salario minimo, mentre si vuole fare attraverso questa competizione sbagliata. Ecco, anche qui facendo la delocalizzazione per guadagnare di più e portare le produzioni all'estero, come sta avvenendo e lo abbiamo sentito in questi ultimi giorni per quanto riguarda lo stabilimento vicino a Napoli, il vecchio stabilimento dell'Alpa Sud, e vogliono portare la panda all'estero, delocalizzarla. Serbia! In Serbia! In Serbia, esatto. Lo vogliono portare in Serbia. Ma voglio dire, ma si va così lo sviluppo del paese? Ma da questi, ma da dove arrivano? Ma si va così. Insomma, ecco, queste sono le denunce. Presidente Rosario, adesso Stefano e Vanessa le mandano le tragiche immagini dell'ultima tragedia dell'ospedale di Tivoli. Ricordando, lei è stato molto preciso, che un signore con la barba, 200 anni fa, disse che il capitalismo e il capitale vuole sempre i lavoratori di riserva. alla massa di lavoratori da pagare di meno per sfruttarli di più. Ed è questo il gioco delle cooperative e stiamo vedendo i risultati, però nessuno, voglio dire, fa una del governo, si rende conto di questo, perché molti che sono al governo gestiscono queste cooperative. perché un lavoratore della sanità nel privato deve prendere 200 euro di meno di quello del pubblico? Ma il pubblico, fate lavorare il pubblico, ma lì c'entrate voi con i voti di scambio, perché i lavoratori, non diamo sempre la colpa ai lavoratori e alle lavoratrici. Ecco, questo tema è un tema di fondo che naturalmente a Telenambiente possiamo affrontare senza nessuna rigidità di riflessione. Ecco, Tivoli è l'ultimo esempio, però non ne parla nessuno di quella povera ragazza uccisa, come ce ne sono tanti, purtroppo, giorni e giorni di notizie, morti sul lavoro, e questa storia del rogo di Tivoli, che già fa il paio con gli altri, a Milano prima di questo, ma poi nel Lazio, le do una riflessione, poi la parlo, anche noi siamo cronisti di strada, allora io mi sono, come si dice, a crochet o telephone, allora la stampa di regime dice gli italiani non vogliono fare l'anti-covid 2023-2024, allora a Roma, per parlare di Roma, sono tutti, ti rispondono, che i centri vaccinali sono tutti già coperti fino a marzo, ad aprile, le farmacie che si dicono disponibili, anche loro dicono, prima di marzo non siamo liberi, ma perché dobbiamo, voi dovete prendere in giro i cittadini? Sì, beh, innanzitutto, innanzitutto voglio sottolineare anche qui l'indecenza, che nel nostro paese strutturalmente una morte sul lavoro fa notizia solo per dieci minuti, poi viene completamente dimenticata. Noi ormai abbiamo ogni anno centinaia di morti sul lavoro ed è francamente una cosa impensabile che non se ne parli, sì, meno male che ogni tanto il Presidente della Repubblica ce lo ricorda, meno male, ma il nostro Presidente su questo è molto sensibile, però non c'è la sensibilità su Vicenza per poter dire basta e non vogliamo più vedere queste cose. Ma d'altra parte questa questione è coerente con la denuncia che facevamo prima. quando si vuole perseguire uno sviluppo economico basato sui bassi salari, sui risparmi e sui tagli degli investimenti, è chiaro che si taglia anche nelle questioni di sicurezza, si taglia dappertutto, c'è la delocalizzazione, abbiamo parlato, laddove non si va però si taglia qua attraverso appalti, subappalti, sub subappalti ancora e via dicendo, taglio dei salari, degli stipendi e via dicendo e taglio degli investimenti sia sull'innovazione tecnologica e sia anche sui modelli e sulla sicurezza. Ecco, tutto ciò purtroppo rientra sul fatto che noi ancora non siamo un paese o perlomeno ci sono anche gli imprenditori che lavorano in maniera diversa altrimenti non saremmo arrivati a un livello di decenza ma se lo vogliamo abbandonare e cominciare di nuovo a diventare invece un paese in declino io non ci sto ma spero che tanti cittadini come me non ci stiano. Ecco. Ma lei si cambi dal prossimo giro in Europa? Ma per carità per due motivi per due motivi se lei si fa se lei fa riferimento a Roma se lo ricordi mi piace la domanda mi piace l'allusione che ha fatto perché così la posso dire fino in fondo io ho fatto un favore a un amico carissimo oltretutto di un partito diverso da quello in cui ho sempre militato ma l'ho fatto con il cuore in mano perché volevo che il suo simbolo rinascesse di nuovo per tutto quello che aveva fatto questo mio amico sto parlando di Di Pietro al di là delle simpatie o delle antipatie che altri possono avere io no anzi ho un grande affetto quindi ho fatto un favore ma senza risorse senza informazione e comunicazione era un compito un pochino difficile ecco e infatti fu un compito complicatissimo detto ciò seconda cosa non ho mai avuto il piacere di piacere l'onore eccetera il privilegio anche di avere partiti che mi candidassero per la verità non lo dirò mai o forse un giorno lo dirò ci fu un partito che mi candidò non lo diciamo non lo diciamo ma è molto vicino alle responsabilità attuali esatto di istituzionali ecco è una cosa che francamente mi ha lasciato sempre per prezzo la terza cosa questa taglia la testa al toro anche qui non dovrei dirlo ma lo dico così non mi inviteranno più in televisione io ho la bella età di diciamo così memorie di uno tuagenario ecco le mie memorie sono a quel livello quindi no non me la sento anche fisicamente di poter affrontare ma tanto sentendosela o non sentendola non ho non ho qualcuno che attualmente mi pone questo quesito questo problema quindi questo problema non ce l'ho presidente rogerio trefiletti allora ritorniamo al tema dello sciopero qui c'è il suo amico vicepresidente e ministro salvini che dice lo sciopero in italia non sa da fare perché si ledono i diritti dei cittadini ma non dice che nella sua lombardia gli scioperi specialmente nei trasporti contro il nord sono l'ordine del giorno perché non c'è sicurezza non c'è paga lavoro massacrante e questo signore vuole mettere a favore di pochi amici i miliardi di euro sul ponte sullo stretto di Messina veramente veramente questa è l'Italia della barzelletta è l'Italia come prima dove il governo dice no alla via della setta rompiamo però firmiamo un accordo bilaterale con la Cina è il vecchio sistema un po' corporativo di quegli anni esattamente sì dimentichiamola quella cosa tanto sappiamo cosa cosa significa voglio tornare sulla questione dei scioperi che è fondamentale guardi su questa questione dello sciopero da questo punto di vista credo di poter dire di avere di trovare il massimo della convergenza nessuno in Italia tranne qualche malcapitato o che altro metterà o metterà in discussione uno dei capisaldi della democrazia e della costituzione quindi un temo che certo poi farà del male perché ci sono le precettazioni ci sono i messaggi sbagliati e via dicendo ma non credo che qualcuno possa passare sopra questo diritto fondamentale dei cittadini come peraltro io aggiungo sempre che ci sono anche i diritti del diciamo così degli utenti dei consumatori allora ci sono le regole le regole sono lo sciopero va indetto con determinati giorni di anticipo lo sciopero va assolutamente informata la cittadinanza nel miglior modo possibile per evitare i disagi ovviamente lo sciopero deve avere due due aspetti importanti il primo le fasce di garanzia in modo che non ci sia un blocco totale o che altro e questo è sempre avvenuto e oltretutto anche le squadre di sicurezza laddove gli impianti devono essere vigilati anche se fermi e in sciopero ecco fatta questa considerazione che riassume i diritti dei cittadini durante uno sciopero beh lo sciopero è l'unica arma che i lavoratori possiedono oltretutto costa oltretutto costa quest'arma se uno sciopero una giornata sono cento ore scusate sono cento euro in meno che costa e poi è un diritto inalienabile inalienabile ecco perché io credo che le battaglie per la difesa dello sciopero avranno ben ben oltre gli eserciti che uno si aspetta che ci siano come i lavoratori pensionati o che altro ma ormai è nella coscienza di quasi tutti gli italiani che questo è un diritto inalienabile Presidente Rogério Trefiletti Presidente Centro Consumatori Italia c'è un tema che questo governo non affronta e che la grande stampa tiene nascosto io lo ricordo perché col Presidente Rosario abbiamo vissuto quei tempi del governo Prodi all'Italia e che sta accadendo la Fiat non c'è più Stellantis prende i miliardi ma porterà come ha detto il Presidente la produzione in Serbia poi la Serbia è un paese che voglio dire sta per questi che si sentono tutti atlantisti borderline quando fa comodo va bene quando non fa comodo vuole subornare il Kosovo all'Italia ma poi la notizia che lei mi può confermare per fare cassa questo governo vuole mettere in vendita vuole privatizzare uno dei pochi gioielli di Stato che ancora c'è le poste perché ormai la team l'ha già venduta quindi mentre prima si diceva non possiamo vendere la rete perché lì ci sono tutti i dati segreti del nostro sono i nervi della nostra popolazione quella è già stata venduta e nessuno ne parla e naturalmente si parla delle poste che è una dei pochi asset che funzionano quindi la Fiat è già non c'è più questi parlano ancora di automotivi ma in Italia non c'è più all'Italia ha fatto quella fine che noi sappiamo al tempo del governo Prodi gli spararono contro facciamo i cavalieri e poi le poste ma la team sì allora è chiaro ed evidente che anche su questo terreno c'è da dire tutto il male possibile perché anziché per esempio su Alitalia ragionare su convergenze intrecci tra i vari tra i vari vettori importanti dell'Europa e farne uno ancora più forte come quello che si profilava una decina da anni fa forse anche di più tra Air France e l'Italia e beh anziché andare in quella direzione delle sinergie abbiamo fatto di tutto tutto il peggio possibile e adesso abbiamo dovuto vendere all'Utanza lo stesso dicasi non l'abbiamo citato ma tutta l'industria farmaceutica che era dell'Italia ma dove è finita dove è andata il made in Italy alcune aziende molto importanti dei prodotti fondamentali del made in Italy sono in mano ad altri che non l'Italia giustamente parlava di Stellantis vabbè ormai francese poi vogliamo portare alcuni stabilimenti in Serbia e chi ne ha più più ne metta purtroppo è questo il caso chi ne ha più più ne metta c'è un processo di deindustrializzazione che francamente va contrastato va combattuto ma se non facciamo gli investimenti corriamo rischio poi che la competizione internazionale ci mangia ci mangia tutti nella competizione e quindi e quindi il nostro destino il nostro declino è praticamente segnato al giornalista presidente Rosario Trefiletti chiedo di prepararsi il titolo finale lanciamo tre iniziative qui a Telambiente di Adriana Toman pregiudizio di Stato quell'Italia a sovranità limitata il caso Oliverio con una prefazione di Otello Lupacchini per i tipicità del sole un saggio che proprio nel core business di Telambiente Alessandro Cerofolini le meraviglie dei boschi italiani guida sentimentale al patrimonio forestale più bello d'Europa prefazione di Daniele Zofi per i tipi dell'altra economia e poi un caro ritorno di un grande amico di Telambiente che ci ricorda ai tempi della mitica storica Telambiente Corrado Pala la costola di Eva la complessità dei generi e la violenza di Adamo è pubblicato per i tipi della ortica editrice ritorniamo in studio con il saluto e l'arrivederci del presidente Rosario Trefiletti il lavoro io sono perché il lavoro si sviluppi attraverso investimenti tecnologici miglioramento delle nostre capacità produttive per dare lavoro vero e serio e non povero ai nostri giovani che non devono essere più criminalizzati ma anzi devono essere diciamo così il nostro obiettivo fondamentale i nostri figli i nostri nipoti che a loro sarà destinato a questo paese per renderlo ancora più bello com'è il nostro paese bisogna andare verso investimenti lavoro serio lavoro nobile e tutto ciò può portare solo a grande solidarietà perché la povertà la diseguaglianza fortissima che c'è nel nostro paese ed altre cose ancora portano solamente disdoro alla democrazia e allo sviluppo e noi non ce lo possiamo assolutamente permettere allora qui dalle frequenze di teleambiente noi ringraziamo il dottor Rosario Trefiletti presidente di centro consumatori Italia passiamo la linea legge diciamo come sempre rimanete con noi e mi obbligherò vero ad invitarla più spesso perché se no perché la colpa è nostra ma dirò anche alle giovani colleghe Vanessa è qui con me con Stefano di virgolette utilizzarla come diceva la Christine Lagarde per i nostri telegiornali per le notizie flash sugli avvenimenti del giorno io saluto tutti ringrazio io voi non voi me assolutamente voi mi date spazio e possibilità di dire quello che penso e quello che ritengo opportuno dire quindi sono a totale disposizione da una delle più amate televisioni che mi ha visto nascere mi ha visto crescere e che continua a avere fiducia in me sono io che vi ringrazio grazie presidente lì nella legge rimanete con noi grazie a tutti